Filippo Lanza, la prima da titolare in una manifestazione così importante, una grande vittoria contro la Russia e soprattutto una bellissima tua prestazione personale. Sì, ci tenevo tanto a fare una bella partita e soprattutto a vincere contro questa squadra che per tante volte ci ha battuto e ci ha battuto anche nettamente. Ci tenevo appunto a vincere con loro e a fare una gran partita anche perché questo è un gruppo nuovo, giovane, merita tante emozioni e tante partite di questo genere. Oggi abbiamo fatto un passo ovviamente, domani ce ne sarà un altro da fare e oggi siamo comunque contenti e festeggeremo questa vittoria ma bisogna già pensare a domani perché questo è un torneo comunque impegnativo anche dal punto di vista mentale, bisogna stare lì a ogni partita e fare dei bei risultati. Oggi abbiamo dimostrato, credo che tutti noi meritiamo un gran riposo per questo pomeriggio perché ce lo meritiamo tutti. Una dedica? Dedico a tutti quelli che mi seguono da casa, alla mia famiglia, a tutti perché ci tenevano molto, ci tenevo anch'io e lo dedico a loro.